E allora ci siamo, stiamo per partire, noi veniamo da molto lontano, ci siamo fatti tanti chilometri ma per una serata che merita davvero, siamo i The Freasters, benvenuti tutti quanti voi diamanti a Sky Lantern! E allora ci siamo, stiamo per partire, noi stiamo per partire, noi stiamo per partire Ci siamo? Fatemi sentire se ci siamo, l'urlo di chiamate! Ci siamo e qui, siamo pronti a già fare dopo? Facciamo così, se avete gli accendini, qualcosa che fa luce, alzate a cielo per favore, qualcosa che fa luce, accendini, telefoni, quello che volete, tutti a cielo! Ci siamo e fera luce, scriviamo! Siamo venerti a scriv物! ok diamante, 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 diamante su, le, mani are you ready for this, eh? 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 go, hey, mani su, su I'm ready for this, eh? so I'm ready for this, I'm ready for this, eh? single time I'm gonna feel the clap, clap of the mani su, 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 yeah clap, 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 clap 3, 4, 7, 3, 65 a year And we know the end is there You can't stop me now You can't stop me now You can't stop me now Okay Here we can't stop me now But if you want to come down, you're welcome Marco Liberali, Andrea Falchetti e Francesco Bellagalli da Fizzlers For you, The Amount Are you free? Are you free? Are you free? Are you free? No, 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 no 3, 4, 7, 1, 3, 65 a year And we know the end is there